Suicidio di massa Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Clash of Clans Oggi in un video devo dire la verità un po' leggero Perché ci facciamo un attacco in war semplice Un attacco sul villaggio secondario Non ho molte risorse Sono rimasto a secco E devo ampliare il deposito d'oro Quindi non ho potuto fare gli eserciti di goblin Per andarmi a ridere le risorse per tenermi l'esercito per l'attacco in guerra Quindi andiamocelo appunto a fare questo attacco in guerra Che è questo Allora non dovrebbe essere difficilissimo ovviamente Perché ultimamente mi stanno capitando tutti questi villaggi vetti così Il decimo è davvero semplice Quindi a questo punto che dire io ci provo Cioè mo potranno davvero solo questi due farmi così male? Non c'è nessuna difesa Ci sarà magari qualche Tesla nascosto in giro E un minuscolo cannoncino qui Quindi io sono fiducioso che non accada nulla di strano in questo attacco E procedo Speriamo bene Allora ci ho sia tutte quante le magie L'esercito, i rinforzi e tutto Quindi vediamo un po' Attacco Allora mettiamo Tipo queste truppine qui Per cercare di far uscire i rinforzi Vediamo se ci riescono Ad avvicinarsi un po' No No Facciamo così Se ci sono dovrebbero uscire Ok Mamma mia sono tanti Sono tanti Allora Allora Mettiamo qua Mettiamo qua E Facciamo così Vediamo un po' Questo Tesla E' stronzo Ci mettiamo anche il King Poi Aspetto un po' Per i rinforzi Aspetto un po' Vediamo un po' Se è così Non so se usarlo subito al volo Su questo Tesla No l'hanno mirato Quindi è inutile Usarlo qui adesso Mamma mia le bombe Che male Vabbè uso anche il Turbo Metto i rinforzi Che però non vanno lì Ci metto anche gli ultimi due Ok Adesso Non so se provare a far scoppiare qualcosa Con i fulmini Oppure aspettare e basta Un minuto e dieci Ce la faranno Chissà Metto anche l'ultimo Boo li butta su questo I fulmini Così non devono andare fin là Almeno Agli angoli di qua Non c'è niente Dovremmo farcela 53 secondi Ma ce la facciamo Secondo me Facile dai Facile facile I valchiri Spaccano proprio Cioè non vedo l'ora proprio No annulla annulla No Annulla Perché l'ho preso No Non ho cliccato niente Non ho fatto niente Ok Perfetto Perfetto 32 mila Vabbè l'importante è il Tris Poi il decimo Io ho chiesto anche se lo devo fare Ma davvero È poca roba Cioè è questo E invece mi comunicano Che devo attaccare anche il secondo E quindi ce lo andiamo a fare Facile facile Decimo Attacco Vai Perfetto Qua ci sta questo Facciamo così Mettiamo i rinforzi Buttiamo anche questo E qui Butto Tra di questi Diamo anche l'energia Al king Al re barbaro Metto questi Metto questi di qua Anzi Due 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 Uno Qua Tanto non badiamo a spese E facciamo così Tanto quelli agli angoli Dovrebbero aver finito Così non vedremo Quell'impietoso spettacolo Delle truppe che se ne vanno in giro A far fuori Strutture angolari Facile facile Andiamoci a prendere Le ultime strutture Ah Ho detto che era un video comodo Questo Non era un video impegnativo Non l'ho vista Questo E cazzo l'invisibile Va bene però Due minuti Ce n'è di tempo ancora Quindi vai Facile facile I draghi si avvicinano Incazzatissimi Arcerini fate subito Ecco Avete fatto un viaggio inutile Perfetto Ci siamo presi Tutte e sai Le stelline Di cui avevamo bisogno E possiamo Andarci comodi comodi A farci questo attacco Vediamo un po' Come ci va Allora Vediamo Sta qui questo Questo qua Quindi Senza esitare troppo Io direi di andarci Massicci da questa parte E Qualcosina Rodiamo Ma neanche Guardi lascio lì Quella roba lì Provo a prendermi Gran parte qui Oppure Doppio attacco E posso Ci provo Però secondo me Me li tritano tutti 16 Ci potrei provare Ah poi c'è anche questo Cioè Viene fare qui E qui Due mezze lune Non lo so Vediamo Chissà come andrà Se sto a fare bene Oppure no Lo vediamo subito Allora Mettiamo Qui Poi Facciamo così E poi Anche Così E vediamo Che cosa riescono a fare 18% Se la prendono Se la prendono Con le truppine E quindi creperanno Tutti inutilmente Vediamo Di qua Se ne stanno andando Contro lo lanciafiamme Inutile Andate sul centro Andate sul centro No Suicidio di massa Suicidio collettivo Abbiamo superato Di poco il 50 Non buttano giù Oh L'hanno buttata giù Però Il risultato è abbastanza No Ci arriva Ci arriva Il risultato è abbastanza Abbastanza penoso Devo dire Abbastanza penoso Abbiamo perso per pochissimo Non ho il super boost Per Di tempo Che mi ridà subito Le truppine E quindi per questo attacco È andato così Direi che Non c'è altro Per oggi Possiamo andare a vedere Dato che Questa volta ancora Non me li sono visti Almeno i primi due Attacchi Che hanno fatto Anche perché Qui due fiamme Due stelle Non due fiamme Replay Allora andare un attimo A vedere Per 4 Allora Distruzione è qui I giganti Angioletti Maghi potentissimi Ma non li faccio da un po' I bocciatori Che stile Partono i rinforzi Invasion Bocciatori Big damage Ma vediamo che Da questa parte Non sono riusciti A sfondare E l'attacco Si estingue Mamma mia Tesla C'è tanta roba Si riesce a fare Questo bocciatore Fuori dal range Ma poi Polverizzato Vabbè L'abbiamo capito Moriranno in fretta Vediamo un attimo Il secondo Anche il secondo Replay Replay Il 3 stelle A questi villaggi Sempre Una cosa da vedere Vediamo Qui c'ha Livello 30 Cosa assurda Tutti da sopra Si è spazzolato Ben bene I lati Poi Invasione Centrale Ma questi Sono i Minatori Cioè Che stile I minatori Cioè I minatori Sono veramente Lo stile Bababia Ce ne sono sopravvissuti Anche tantissimi Cioè Pazzeschi Il terzo Anche Immagino E tanta roba Becchiamocelo La top 3 Il podio Vediamo Per 4 Il golem Maghi ultra pop Scheletrini Partono i bocciatori Che sbocciano A pressione Quello 20 e 21 Questa volta Gli eroi E poi si scatenano Le mongolfiere Sulla parte Che manca Del villaggio Doppio attacco Perfetto Distrutte Tutte le difese E anche le mongolfiere Iniziano a far fuori Le strutture Proprio un bel attacco Complimentoni Questa Top 3 Degli attacchi Anche Del mio clan Che saluto Gli aree splatoon E quindi Per oggi È davvero tutto Per questo video Invito a lasciare un bel like Se vi è piaciuto Qui sotto al video Anche un commento Fatemi sapere che ne pensate Io vi saluto E ci vediamo come sempre Nel prossimo video Ciao 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 Ciao